I navigatori hanno ripreso la loro attività lavorativa ferma da quasi due anni. Il problema è che c'è da capire come funzionano, perché loro chiamano le persone all'ufficio di collocamento, ma il loro compito, a quanto pare, finisce lì. In che senso? Spieghiamo meglio. Nel senso che noi patronati, non solo io posso parlare, penso a nome di tutti i miei colleghi, siamo completamente obberati di lavoro per compilare le domandine che dovrebbero fare loro. Quindi loro danno dei fogli alle persone, proprio due semplici modelli, che noi patronati dobbiamo compilare e mandare tramite mail al loro indirizzo di posta. Ma la gente cosa viene a chiedervi? La gente viene a chiedere chiaramente la compilazione, perché molta gente magari non è pratica, ha paura di sbagliare, quindi penso che da parte nostra sia un lavoro che dovrebbero fare loro e non noi. Noi abbiamo il nostro lavoro che non riguarda assolutamente il centro dell'impiego. E che tipi di lavoro vengono offerti? Sono lavori socialmente utili, comunque cantiti di servizio. E praticamente non ci occupiamo della compilazione e dell'invio. A volte abbiamo delle difficoltà perché i nostri assistiti non hanno una loro casella, una loro mail, quindi dobbiamo fargli intendo la mail, mandare la documentazione. Quindi noi perdiamo tanto e tanto tempo durante la giornata solo per questo lavoro che non ci riguarda assolutamente. E voi l'avete fatto presente a chi di competenza? Non lo abbiamo fatto presente, noi lo facciamo per cortesia ai nostri assistiti. L'abbiamo più volte detto a loro di essere loro stessi a chiedere all'ufficio di collocamento e di compilare le domandine. E loro rispondono chiaramente che non è di loro competenza, ma ci sono i patronati che devono fare questo lavoro e se il patronato non va bene, che venga cambiato.